Lulli squida la transizione dell'Olimpia Cossa, vuole ragionare, poi lascia sul posto Rudy, penetra, scarica, pallone troppo alto, Heinz in qualche modo lo tocca, Jujo lo recupera, Rudy da Mirotic sopra il ferro, che stoppata, pazzesca, lo, fino in fondo, benigno! Kyle Heinz, time out, Kyle Heinz, oh mamma mia, ha una stoppata, se ci fanno vedere il replay, la giocata, inutile averla giocata da partire, è questa! Coach, se non ce lo fanno, mamma mia! Intanto Mirotic è rimasto a terra, un problema al ginocchio destro, andava per schiacciare, va in alto, Heinz, ma alto, 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 spattendo la partita! Palla contro il tabellone Mirotic, stoppica, ok, ecco, ecco qua! Rudy, che poteva andare da solo, sceglie Mirotic, guardate, Heinz che arriva da dietro e lo cancella! Cancella, e converta!